una buona serata a tutti amici di super j prosegue la fase di maltempo in buona parte del centro sud mentre al nord il tempo tende a migliorare la circolazione ciclonica domani si sposterà lentamente verso sud ma la fase perturbata coinvolgerà tutte le regioni centro meridionali nella giornata di lunedì il tempo dovrebbe essere ancora instabile ma in via di esaurimento e solo martedì dovrebbe tornare la calma atmosferica un po su tutta l'italia in abruzzo prosegue la fase di maltempo che insisterà anche nella giornata di domani sebbene gli effetti saranno decisamente più ridotti sia in termini di intensità delle precipitazioni che di frequenza delle stesse non si esclude nella seconda parte di giornata anche la possibilità di schiarite sempre più ampie la ventilazione da nord nord est di debole o moderata intensità ed il mare sempre mosso le temperature minime di questa notte saranno comprese tra 12 e 20 gradi e le massime di domani in leggero aumento con valori compresi tra 22 e 26 gradi l'appuntamento con la rubrica meteo e per lunedì prossimo buon weekend a voi ciao